Felice Vaco, contro il Bari è arrivato il 200esimo gol in carriera tra i professionisti. Quali sono state le sensazioni e le emozioni mentre poggiavi il palone sul dischetto? Ti è passata davanti un po' tutta la tua carriera in quegli istanti? Sì, effettivamente è stato un momento molto particolare perché avevo l'opportunità di realizzare un piccolo sogno, quello di poter fare i 200 gol nei professionisti. Quindi è stato un momento particolare dove ho cercato di concentrarmi al massimo per cercare di buttare la palla in rete. Guardando la tua carriera, quali sono stati i momenti più importanti e che ti hanno caratterizzato come calciatore? Guardandomi indietro sicuramente le esperienze di Firenze e Avellino sono state quelle più formative dal punto di vista professionale perché comunque ero giovane e ho avuto modo di confrontarmi con delle piazze davvero importanti. Poi durante gli anni a Benevento sicuramente sono maturato tantissimo dal punto di vista soprattutto umano e poi Spezia, Novara, Travani sono state le ciregine sulla torta di una carriera favolosa dal punto di vista realizzativa. Puoi dirci qual è il gol più bello e anche quello a cui sei più affezionato? A me questa è una domanda molto particolare. Dal punto di vista affettivo sicuramente quelli a cui sono più legato sono i due gol che ho fatto al Napoli. Essendo io un tifoso partenopeo, con la Sassari Torres feci una doppietta in casa al Vanni Sanna e vinceremo per 2-0. Quindi dal punto di vista affettivo sicuramente quelli. Dal punto di vista della bellezza penso che scendere in uno sarebbe difficile. Quindi scelgo l'ultimo, quello su calcio di rigore fatto domenica contro il Bari. Appunto domenica hai segnato con un cucchiaio e sicuramente questo gol lascerà il segno, una firma d'autore in un momento importante per la tua carriera. Lo avevi già pianificato oppure è nato in quegli istanti prima di calciare? No, pianificato no perché è difficile pianificare un gol. Però in quel momento mi sono trovato di fronte a un portiere che mi conosce molto bene perché abbiamo avuto modo di giocare insieme durante l'arco di questi anni. Quindi sapevo che mi conosceva bene, dovevo fare qualcosa di particolare per sorprendere. Alla fine mi è andata bene, ci sono riuscito. Un'ultima curiosità, a chi dedichi il 200esimo gol ai professionisti? La dedica sicuramente va a mia moglie e ai miei figli. Perché comunque facendo il calciatore sono le persone che ti seguono di anno in anno e che fanno sacrifici con te per farti stare bene. Quindi la dedica è sicuramente a loro. Hai giocato in tante squadre e con tanti compagni. Cosa ti senti di dire loro in questo traguardo così importante? Sicuramente vorrei ringraziarli ad uno ad uno perché senza di loro non sarei mai riuscito ad arrivare a questo obiettivo. Quindi colgo l'occasione per un ringraziamento speciale a tutti con quelli con cui magari è nato anche un rapporto d'amicizia. Vorrei condividere con loro questo piccolo obiettivo.